Buongiorno a tutti. Con una velocità inaspettata è stata fissata per il prossimo 23 giugno l'udienza pubblica innanzi alla Corte Costituzionale per la discussione della questione di legittimità costituzionale riguardante la valutabilità dei servizi di insegnamento prestati nella scuola paritaria sia ai fini della ricostruzione di carriera sia ai fini della mobilità. Sappiamo che la giurisprudenza di merito aveva un orientamento non uniforme circa la valutabilità di questi servizi, infatti molti tribunali erano propensi all'accoglimento dei ricorsi, altri erano propensi a respingerli sul presupposto della non valutabilità di questi servizi. Il tutto fin quando la Corte di Cassazione con due sentenze del dicembre 2019 ribadite con un'ordinanza del novembre 2020 sostanzialmente aveva messo un punto fermo, nel senso che la Cassazione aveva ritenuto non valutabile il servizio prestato presso le scuole paritarie sia ai fini della ricostruzione di carriera sia ai fini della mobilità, ritenendo sostanzialmente non superabile la non omogeneità dei servizi prestati presso la scuola statale rispetto a quelli prestati presso la scuola paritaria e sul fatto che non c'era una norma che espressamente equiparava queste due tipologie di servizi. Dopo le sentenze della Cassazione la giurisprudenza di merito si era andata uniformando sostanzialmente a questi principi di diritto fin quando nel novembre del 2020 con un'ordinanza della Corte d'Appello di Roma è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma del testo unico sulla scuola che non prevede la valutabilità dei servizi prestati nella scuola paritaria. Secondo la Corte d'Appello di Roma sostanzialmente sarebbe irragionevole dopo la riforma del 2005 che ha sostanzialmente suddiviso le scuole non statali in scuole paritarie o non paritarie, quindi eliminando la distinzione tra scuole pareggiate e legalmente riconosciute. Sarebbe irragionevole quindi non riconoscere la validità a questi servizi sia ai fini della movita che della ricostruzione di carriera e peraltro sarebbe illogico ritenere validi i detti servizi ai fini della progressione all'interno delle graduatorie ad esaurimento finalizzate all'assunzione del personale salvo poi sostanzialmente a zerarli una volta che il docente viene immesso in ruolo e quindi non riconoscergli alcuna validità sia ai fini giuridici che economici. Proprio per questi rilievi critici sollevati dalla Corte d'Appello di Roma anche nei confronti delle pronunce della Cassazione è stata posta innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Proprio il 23 giugno quindi si discuterà in udienza pubblica e i giudici del Palazzo della consulta dovranno dire l'ultima parola su questa vicenda. Vedremo come andrà a finire. Arrivederci.